Nei primi sette giorni di luglio, su 12 sequenziamenti, sono risultate sette varianti indiane. Se immaginiamo una proiezione su tutto il territorio bergamasco, spiegano l'Istituto Mario Negri, possiamo affermare che la prevalenza della delta è ormai assimilabile a quella della Lombardia, tra il 45 e il 48%. In pochissimo tempo ci troveremmo quindi ad avere la variante delta più diffusa di quella inglese, come accaduto in Inghilterra. La delta è il 50% più contagiosa della alfa, che a sua volta era il 50% più trasmissibile del ceppo arrivato da Wuhan, già mutato nel marzo 2020. Al momento i dati a disposizione degli studiosi sulla delta sono esigui per poter sapere se è associata a un eventuale maggior livello di gravità della malattia. Unica certezza è che in Inghilterra i nuovi casi di ospedalizzazione riguardano persone non vaccinate. È dimostrato che il ciclo di vaccinazione completo, con entrambe le dosi, protegge anche contro le varianti, oltre che dalla malattia in forma grave. È rarissimo che una persona vaccinata possa trasmettere il virus. In più rispetto a quanto accaduto da maggio in Inghilterra, ora nel nostro paese fa caldo e contagiarsi fuori all'esterno è difficile. Uno studio fatto a Wuhan su 1.700 pazienti e un altro con 25.000 casi hanno fatto registrare un solo contagio all'esterno. La trasmissione all'aria aperta è quindi rara, escluso evidentemente condizioni di assembramento. Emerge quindi l'importanza di continuare una rapida campagna vaccinale per proteggere quante più persone possibili. Gli attuali positivi in Lombardia sono 8.460 e 8.302 soggetti in isolamento domiciliare. Il maggior incremento giornaliero di positivi a Milano, 82 casi, a seguire Varese 24, Brescia 15 e Bergamo 6.